Ah, ah, eccoci qua. Allora, è successo. Vediamo insieme. Grazie per aver aspettato così tanto. Dopotutto, tu e me, noi due, abbiamo entrambi aspettato così tanto tempo. So, to be here. Quindi essere qui, finalmente. Sul culmine della connessione, on the verge of connection. E' alquanto eccitante. Non vedo l'ora di creare un nuovo futuro con te. Ora, mostrati, Delta Rune. E i link a questa Delta Rune. Eccolo qua. Welcome, please read this final warning. E' scritto a Den. Allora, per favore, reggi questi avvertimenti finali. Poi, prendi le tue mani. Maybe moving or flashing di mer. Ci potrebbero essere immagini che si muovono o che flashano. Potresti cambiare i protocolli di sicurezza per usare il programma. Per la pubblica sicurezza. Ok, non ne possiamo parlare per 24 ore. Non ho fatto bene a registrare e non andare in live. Accetti tutto ciò che succederà di qui in avanti. No, vabbè. No, vabbè. Il simbolo, ragazzi. Il simbolo. Facendo in tempo reale qua. Are we connected? Oh, santo cielo. Eccellente. Davvero, eccellente. Ragazzi, ho i battiti. Ci dovrebbe essere un robo che segna i battiti cardiaci in questo momento. Potremmo iniziare. Madonna santa, ragazzi. Prima devi creare un vascello. Scegli la testa che preferisci. Oh, Gesù. Aspetta, contiamoli. Sono sei, sono sicuro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sono sette. Ma no, ragazzi. Ma no. Maniche corte. Scegli le gambe. Cosa cambia? Sembrano tutte uguali. No, non sono tutte uguali. Questo è il tuo corpo. Lo accetti? Eccellente. Eccellente. Hai creato una bellissima forma. Quello è il suo cibo preferito. Dolce. Un salty pain. Pain. Doloroso. E sono sempre sei le scelte, ragazzi, eh. Il mio. CD. Ma esistono? Il rosso. Dagli un dono. Madonna mia. Sto creando un essere vivente. Dolcezza. Intelligenza. Ambizione. Coraggio. Voce. Il dono della voce è bellissimo. Gli darò la dolcezza. Ragazzi. Cosa ne pensi della tua creazione? Non sentirà. Lui non sentirà. Amore. Speranza. Disgusto. Paura. Paura. Perché ho una paura fottuta di quello che sta succedendo. Hai risposto sinceramente? Sì. Ti rendi conto della possibilità di dolore e... SISUR. Non mi so bene. Sì. Sì. Namedi il tuo vaso. Ho. 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 Non posso rinominare. Eccellente, molto eccellente, Dex. Sarà scartata. Nessuno può scegliere chi sarà in questo mondo. Il tuo nome è... Non si posso credere! Sarà ritardo per scuola. L'aspetterò fuori. Ultimo umano. L'aspetta. L'aspetta. trisho per il eterno. come se le tue scelte comunque la nostra scelta non importava non è importata niente è una cosa che ci disse Shara allora la casa sembra leggermente diversa perché è il castello giusto sì ma no mi vede madonna la cosa lo scelta monna è un mondo diverso no aspetta un attimo sono nel nostro mondo no Undyne la musica no ragazzi ho fa l'insegnante oddio ma è Tummy oddio è Tummy Badalphys madonna Susie la famosa Susie ragazzi Susie però è scritto diverso questa è Susie non è Susie però anche Chris non Chris è un'introduzione ad Undertale 2 che allora praticamente questo si chiama The Beginning e loro parleranno delle origini quindi secondo me faranno una lezione di storia e questo qua è un trailer per Undertale 2 che sarà un prequel come avevamo detto che parlerà delle 6 anime comunque all'inizio era Chara e ci avevo preso ieri ci avevo preso che era Chara ci avevo preso no nessuno guarda tutti finiscono nei guai intanto sono le 2.40 guardate l'orario l'orario è giusto quasi no segnale 2 no Susie since you came in the last why don't you get it from me? no whatever mi piace Susie è una pistella forte Chris e puoi andare con lei e assicurarti che lo faccia motivational quotes try your best that's madonna cosa si è mangiata? cosa si è mangiata? lascia che ti espede un segreto cosa cazzo? solo perché non dice niente non è finita il Kotsu is eating all the shark di Walsu ah questa era l'unica sua ultima chance adesso sarà finalmente espulsa dai Chris non essere scioccata lo sai che è vero tutti lo stanno aspettando tutti lo vogliono quindi congratulazioni Chris mi hai beccata lasciami dire un'ultima cosa seems like a waste of food that's crazy just for anything mi sembra uno spreco essere espulsi solo per aver mangiato uno snack quindi Chris if I know you're gonna pull the trigger visto che so che tirerai il grilletto beh perché non vengo perché non essere espulsi per qualcosa di veramente oh some real carnage è una vera strage Chris come ti senti a perdere la faccia no Chris è una buona madre sarebbe un peccato farle seppellire suo figlio l'ha già fatto l'ha già fatto Toro madonna bene facciamola finita ora we get more chalk music back glass and then Chris we do the product and some oh non ho scelto ah ok non rispondere se non l'hai capito finora le tue scelte non contano let's go freak music si can thi se du un dun � e Grazie a tutti. Ecco l'armadio. I'm just starting to... Hey Chris, sono io o... È veramente buio qui? Cosa c'è Chris? Vai dentro o cosa? Bene, se vuoi fare la femminuccia allora io... Andremo insieme... andremo dentro insieme, allo stesso tempo. Non c'è niente qua, a parte vecchie cartacce. Cerchiamo un interruttore. È strano, non riesco a trovare un interruttore. Mi chiedo se non è ancora più in profondità. È abbastanza grande per un armadio. Cristo santo, siamo nel vuoto. Nel vuoto, dice Ara. Ok, posso ancora tornare indietro. Ragazzi, sto tremando, ho paura. Ragazzi, sto tremando, ho paura. Ragazzi, sto tremando, ho paura. Grazie a tutti.